Tutti abbiamo un modo diverso di pensare. Per esempio, qual è la prima cosa che vi viene in mente quando vi ponete un obiettivo? Se penso a quando io mi pongo un obiettivo, immediatamente la prima cosa che mi viene in mente è cosa devo fare per poter raggiungere quell'obiettivo. Ma questo è il mio modo di pensare e di ragionare. Altre persone potrebbero pensare, chi ha già raggiunto questo obiettivo intorno a me, in modo da poterlo contattare o poterlo, tra virgolette, copiare o emulare. Altri potrebbero pensare, non ho mai raggiunto questo obiettivo prima, quindi sono veramente capace di poterlo raggiungere. Oppure è un obiettivo molto difficile, quindi ci vorrà molto tempo per poterlo raggiungere, a priori. Pensateci, quindi quando vi ponete un obiettivo, immediatamente la prima cosa che vi viene in mente, la prima domanda, la prima affermazione, quello è il vostro modo di pensare, è il vostro atteggiamento. E l'atteggiamento è una delle cose, è forse la cosa più importante per poter raggiungere veramente un obiettivo, che sia di dimagrimento, che sia di forza, che sia di corsa, di pesi, ma in generale anche nella vita. Perché molte volte ci concentriamo solamente sulla parte tecnica, sul come, ed è una cosa fondamentale, quindi devo mettere forza su un esercizio, che metodi posso utilizzare, devo dimagrire, cosa devo mangiare, e via dicendo. Il problema è, non è un problema, è solo un dato di fatto, che per raggiungere un risultato, l'85% del lavoro lo fa l'atteggiamento, non lo fa la parte tecnica. Perché, in fin dei conti, se facciamo un esempio, siamo in Italia, più o meno tutti sappiamo che cos'è il calcio, tutti sappiamo i fondamentali del calcio, dobbiamo solo allenarli, ma non tutti sono Cristiano Ronaldo, non tutti sono Totti, non tutti sono Del Piero. E queste persone, sì, probabilmente sono più dotate di altre, ma sicuramente la cosa che hanno diversa rispetto alla persona normale è l'atteggiamento, loro hanno un atteggiamento costantemente positivo, propositivo e sono fortemente determinati. Quindi, ricordatevi una cosa, il modo di pensare, il vostro modo di pensare, influenza i vostri risultati, influenza le vostre azioni. Anche perché, nel, penso, più del 90% dei casi, realmente i risultati che otteniamo non dipendono dalle nostre capacità reali o dalle nostre potenzialità, ma dipende dall'immagine che noi abbiamo di noi stessi. Quindi, se io ho un'immagine di me stesso, tra virgolette, che sono una persona debole, o una persona che molla, o una persona che non ha le qualità per poter raggiungere l'obiettivo che mi sono preposto, sicuramente non riuscirò a eccellere. Anche se magari io ho tutte le qualità fisiche per poterlo fare. Una delle cose fondamentali, che purtroppo non viene spiegata e non viene allenata, quindi fondamentalmente se sei fortunato ce l'hai, se sei sfortunato non ce l'hai, è la parte mentale. Essere forti a livello mentale, perché è quello che veramente ti porta al risultato. Non il sapere cosa fare, perché il sapere cosa fare, oggigiorno basta andare su internet e c'è spiegato di tutto, di tutto. Da come montare un lavandino, a come programmare l'allenamento della forza, come si allenano le persone in palestra, a come si allena il campione del mondo. Quindi se volete, il materiale c'è già tutto. Fondamentalmente però la cosa importante è allenare l'atteggiamento e i pensieri. Anche perché, e questo è un dato di fatto, oggi non siamo la stessa persona di ieri. Il cambiamento è una cosa inevitabile, perché io oggi sono diverso da ieri, sono diverso da un mese fa, sono diverso da dieci anni fa. Fisicamente, perché sono più vecchio, e anche mentalmente perché penso in maniera diversa. Magari non totalmente diversa, ma sicuramente in maniera differente. Quindi, visto che il cambiamento è una cosa inevitabile, sarebbe stupido accettarlo in maniera passiva. Al contrario, è molto intelligente cercare di cambiare, modificarsi, per diventare come vorremmo veramente essere.